...importa il pagamento di una sopra tassa fino ad un importo di 200 euro nelle regioni di Venezionista e importo a norma di legge. Vi invitiamo a verificare che il biglietto di viaggio sia correttamente compilato e compilato e ad esibirlo al personale di Trenitalia per i controlli. Grazie per l'attenzione. I like their feet. Grazie.